Intro Ma bella a tutti ragazzi bentornati dalla MBS Squad Siamo qui in un nuovo video di Clash Royale Siamo tornati perchè vi volevo presentare questo mio nuovo deck Non è più quello con Minatore e con Gigante Royale Bensì consiste nell'utilizzo del Mastino insieme al Drago Infernale e a tutte le altre carte Prima usavo al posto dello strigone di gaccio l'estrattore di Elisir Quindi se non avete magari il mago di gaccio potete usare l'estrattore Solo che adesso visto che hanno aumentato il costo è diventato un po' inutile Io andrei a proseguire questo torneo che avevo già iniziato E andrei a fare una o due partite Iniziamo subito con la ricerca della prima partita Ok siamo contro Cassie Del clan In seed out qui Io partirei subito con il Mastino Dietro E vediamo come gioca lui Lui parte con la principessa No 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 Ecco infatti Raga ho fatto bene Qua mettiamo la Fireball Qui invece metterei dietro il Baby Dragon Che deve assolutamente uccidere con la principessa Lui c'è anche la strega Vediamo un po' come fare Beh non stiamo andando male Lui spreca la Fireball Secondo me è sprecata Qua tiriamo giù la strega E gli facciamo un po' di hit all'attore Molto bene Molto bene Siamo partiti Direi col piglio giusto Abbiamo portato il suo torneo a 1.6 Bene bene dai Iniziamo con Questo da dietro Ma vediamo lui invece cosa usa per attaccare Perché ancora non si sa Iniziamo il Mastino Lui usa Il Moschettiere Il Moschettiere è una bella carta Eh non usiamo la Fireball Su I Barbari Eh qua purtroppo raga Non siamo riusciti a fare danno Perché c'è anche la principessa Ma va bene comunque Eh forse qualcosina No Sì beh forse qualcosa l'abbiamo fatto Va bene va bene Lui intanto deve ancora farsi i danni Quindi Mettiamo il Baby Dragon E dietro I Spear Goblin Così Ah lui si usa la Zap Va bene Non siamo riusciti a fare i danni Di nuovo Però Stiamo andando bene Stiamo andando bene Mettiamo Loro Per fermare con la strega Poi l'uso la Fireball Comunque la strega deve andare giù Ok E andando su E io riattaccherei di nuovo Con Mastino E il solito Baby Dragon Con dietro Spear Goblin Stavolta però voglio giocare così Eh Sì Così così Bene bene Adesso però non abbiamo difeso Per i I Barbari Ma comunque Comunque abbiamo preso la Torre Zitti zitti Qua ci diffendiamo così E così Sì Perfetto Ah avevamo anche il Minatore Questo qui Però Ormai non credo che gli sia più utile Ehm Attacchiamo ancora Lo dobbiamo lasciare respirare Qua ci prendiamo lì Va bene Va bene Va bene Va benone Questa situazione Lì prendiamo la Torre E andiamo a vincere Quindi Raga abbiamo vinto la prima partita Credo che avete capito Come Utilizzare questo deck Andiamo subito a fare Una seconda partita Stiamo contro Daniel Di un clan Vabbè Non sta nel nome Ehm Abbiamo una mano Un po' di merda Non inizio Però vabbè dai Facciamo un po' di danni Con loro Se ci fa fare bene Però sono molto forti Fanno 300 di danno Quindi se li avete di prima mano E non sapete cosa fare Usateli Perché Vi fermo Qua non l'ho davvero capita Quella fornace lì Così vicino Che fa davvero un po' È davvero un po' inutile Eccola lì Lo tiriamo subito giù Con il Avete capito Con il drama infernale Lui ci ghiaccia Il coso Giustamente Adesso provo a zappare No Ho sbagliato Voglio zappare In modo tale Che la La torre beccasse Il mio mastino Però Non ci sono riuscito Non importa Qua facciamo un po' di danni Alla torre No In anche tanti Va bene Va bene Adesso ci difendiamo Eh Adesso Un po' difficile difendersi Io tirerei La fireball Sì perché Se no ci faceva Troppi Troppi danni Ok Adesso Dobbiamo Ricaricarci Spero che Non Abbia Elisir Il nostro avversario Vediamo un po' Non dovrebbe avverne Perché anche lui Sta aspettando Va bene Molto bene Molto bene Eh lui C'ha il golem Raga eh Golem Un po' un casino Però ci abbiamo Comunque lui Per fermarlo Usiamo Il nostro Mastino Poi usiamo Il Il Brano infernale Eh Adesso raga Ma come mi difendo io Come mi difendo Eh mi sa che C'è andata Giù la torre Eh Purtroppo si Non mi sono riuscito A difendere Dal golem Vabbè Proviamo a rimontarla Però sarà molto difficile Perché il golem Non so davvero Come Come affrontarlo Ok Quindi attacchiamo Così Due draghi infernali Meglio Così fermiamo il golem Andrei di barbari Qui Se riesco a mettere Il mastino Ok C'è un mastino Ucciusa Ucciusa Vincerla Va bene Comunque Spero che avete Capito Il deck E niente Se vi è piaciuto Vi invito a condividere Lasciare un bel mi piace E noi ci vediamo Alla prossima Bella ragazzi E noi ci vediamo E noi ci vediamo